che confusione sarà perché ti amo è l'emozione che cresce piano piano tendimi con te e stammi più vicino se ci sto bene sarà perché ti amo io faccio il ritmo, il soggetto respiro nel primavera sarà perché ti amo io faccio brighter e se mi ritmo, il soggetto�를 è la profe leader io faccio pivere immer su true Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.